Benvenuti amici, io sono Pimpos e oggi siamo su Mayday Mayday praticamente è la copia, possiamo dire così, di Granny Semplicemente perché la casa è uguale, proprio è quella, la casa è quella Anche la musica Cambia lei, Granny, si è, è diventata bella Granny ragazzi Detto in parole povere Non abbiamo qua la modalità a fantasma Quindi direi di andare così, forse Adesso non so, ecco, come potete vedere la grafica è pure quella Pure la scritta Comunque, Mayday is crazy Come Granny, esattamente pazza come Granny Allora, come potete vedere adesso la casa è identica Cambieranno solo le texture, se non sbaglio The one, anche la scritta Precisa, spiccicata Dopodiché la casa musica uguale La grafica cambia Le texture cambiano Il luogo è sempre quello Quindi Granny ha tutti gli effetti Ecco qua Cambia niente Non cambia niente Ok, però Quanto meno abbiamo Granny da giovane Oppure Non lo so, è diventata più bella Ecco qua Bagno un po' più puliti Forse questa è l'anguria Un po' più striata Forse questa È Granny da giovane Eccola lì Eccola lì Arma Mamma mia che sei brutta Cioè no, è bella effettivamente È più bella dell'originale Aspetta che qua mi ammazza Ecco Mi ammazza come l'originale Però è più bella Quanto meno C'abbiamo più bella Ok Vediamo un po' le altre stanze Vediamo se c'è qualcosa di diverso Se c'è la macchina Se ci sono tutte le varie zone Che siamo abituati a vedere su Granny Allora Vediamo intanto qua Se c'è qualcosa In questi cassetti Adesso la porta sarà chiusa Come nei vecchi Granny Sì Esattamente Proprio come su Granny Copia spiccicata Allora tizia È pure la voce Ma come La voce è da vecchia Ed è giovane Ma che ti sei bevuto Una porzione Della giovinezza Che c'è Che sei bella Piazzi poi le trappole Come tua nonna O sei tu Non capisco Se è tua nonna E tu stai prendendo Le sue veci Perché non lo so Lei è andata A farsi una passeggiata Oppure Sei giovane Effettivamente Granny Granny Sei troppo giovane Per i miei gusti Piano Allora Vediamo di Mi ha pesato Ma guarda quante trappole Che piazza Sta malefica Che onore Essere ammazzata da te Da giovane Granny E dai su Andiamo a spolare altre stesse Veloci però Allora Via Veloci Zoppicando ma veloci Il problema è che c'è la trappola Allora Andiamo da questa parte Da qua Mi sembra Tutto uguale Tutto uguale Da qui Vediamo se c'è Teddy Lei passa Veloce Tizio passa Ok Scendiamo Sto Zoppicando troppo Vediamo se c'è Teddy Veloci Levati di qua Sarà lo stesso Teddy Di Granny Mi sa di si Ecco il pulsante Premiamo Eccolo qua Lo stesso identico Teddy Di Granny Qua abbiamo la parte di fucile Va bene Praticamente è cambiato Solo la Solo le text Sono cambiate E lei ovviamente E ovviamente lei Andiamo a dare un'occhiata Nel resto della casa Vediamo se c'è la zona segreta Qua Credo di no Perché il gioco si ferma Ad una versione vecchia Di Granny Ok ho capito Vabbè Scendiamo da qua Qua c'è sempre la placchetta Giusto? Andiamo di qua Andiamo di qua Forza Veloci Veloci Non ha senso Ste texture qua sotto In questo tunnel Vabbè Ce la facciamo Andar bene Andiamo di qua Levati Levati Stas D'adosso Allora Vediamo Vediamo l'auto Vediamo se c'è l'auto Vediamo se hanno cambiato L'auto pure Ok L'auto ce l'abbiamo Ho fatto un casino di rumore Rossa Rossa stile Non lo so Stile Fast and Furious Qua abbiamo sempre il fucile Va bene Vediamo Adesso lei scenderà qui ovviamente C'è qua niente Dove sei? Granny giovane dove sei? Granny giovane Ho fatto rumore Niente Adesso io salgo E sicuramente mi ammazzerà Giro l'angolo E ci sarà lei Non c'è però Che cos'è che stai aprendo? Aspetta che me ne vado di lava Nel dubbio Qua c'è una placchetta Sospesa nell'aria L'avevo vista però È scomparso Vabbè Andiamo Che c'è di là? Ah qua il puzzle Il puzzle con Con Baldi Vabbè Non è che c'entra niente con Baldi Sta tizia qua Mady Non è che la fidanzata di Baldi Ditemele prima le cose Allora Gli scoop Ditemeli prima Così Quanto meno ne parlo Perché se non me le dite Allora Emergiamo da qui Vediamo che c'è Vediamo che c'è Allora Che abbiamo? Abbiamo Oh C'entra con Baldi Assolutamente sì Quindi O è la fidanzata di Baldi Oppure è una sua alunna Oppure Non lo so Il pozzo è diventato tutto blu Qua abbiamo La parte di fucile L'anguria L'abbiamo persa lì Sta bambina Chi è? Questo è quello di The Grudge Il bambino di The Grudge Aiuto che è inquietante Allora Niente Andiamo Questa è sopra chiusa Rientriamo Atteriamola qui Che fine ha fatto? Non è che si è buggata da qualche parte Mady Granny giovane Dove sei? Qua abbiamo sempre la bigliettina Mady dove sei? Mady Mady dove sei? Mady Che fine ha fatto Si è buggata da qualche parte Secondo me Secondo me l'abbiamo buggata da qualche parte Vediamo Se effettivamente Eccola lì Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Ma Visto che il gioco è fatto Su una versione vecchia Magari funzionano anche i vecchi bug Quelli che vi avevo fatto vedere Tanto tempo fa Mi ha visto E che sei rottura Mady E dai Non essere così insistente con me Ma che ti ho fatto? Ma che ti ho fatto Mady malefica Allora Andiamo Veloce Veloce Me ne vado 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 Magari funziona quello del tavolino Però adesso non mi ricordo come farlo Però Aspettiamo Così Poi pianino Fino a quando spuntavo il letto Si però dobbiamo tirare qualcosa Altrimenti lei non mi sente Tiriamo il verso Aspetta Ok No tranquilla Proprio tranquilla Ok tiriamo Qua Mi posiziono Mi abbasso Non mi ricordo se doveva abbassarmi Vabbè Mi abbasso Lei è No aspetta Non credo Di dovermi abbassare Lei entra Se mi ha sentito Se non è sorda Più che altro Io l'ho tirato il vaso Oh Che sei sorda Me ne vedi E datta una controllata Allo Torino Vieni Sta venendo Capisco che sei lenta Però Dico Velocizzati un po' la vita Ci sei? Che Che apri? Che apri Che le porte sono aperte Cos'è che apre? Ah io invece L'ho tirato di là Il vaso Ora le sto ricordando Ok lo tiravo di qua Dopodiché Mi metti in posizione Oh io l'ho fatto il rumore Se non ci senti Non è che è colpa mia Però Che cos'è che stai aprendo? Cos'è che ha? Che sta mangiando la carne? Che si sta mangiando Il cosciotto di prosciutto Che c'è lì sotto? Meidi Ti muovi Ti muovi Meidi Aspetta via Via Secondo me lo dobbiamo fare Proprio dall'inizio del gioco Si è buggata Che sta facendo? Cos'è che stai facendo? Dov'è che sei? Dov'è che sei? Che succede? Dov'è sei? Dov'è? Apre porte a caso Dov'è? Ma stiamo scherzando Meidi Meidi Dov'è? Mi sento aprire porte È normale Però non c'è lei Qua la zona segreta non c'è più Dov'è? Ma non c'è più Il ragno c'è almeno Manco il ragno Manco il ragno c'è più Non c'è manco più Manca il ragno Meglio così Cioè io sono fermo Che cos'è tutto sto casino? Che ti stai pulendo i piedi? Dov'è? Non mi sono scherzando Ma mi prende in giro sta tizia qua Ma mi prende in giro Dov'è? Apre porte a caso pure Dove sei? Fatti vedere Che ti è successo? Perché cammini alla cieca? Dov'è? Ho fatto rumore Ok Il rumore è finito Eccola lì Eh dai però muoviti Ho fatto rumore Aiuta L'avevo dietro Si è buggata lì Muoviti Si è buggata Si è buggata lì Che facciamo? È fighissimo Perché ha tutti i bug Del gremio originale Si sta sbloccando Piano piano si sta sbloccando Guardate lì Allora niente Si è intersecata lì Io esco allora Vediamo se si Eccola lì Sapevo Che appena Non uscivo Ammazzato Tra l'altro Avevo scoperto anche Quello del letto io Quindi vediamo un po' Allora Io mi metto Io tiravo Il vaso da questa parte Se non sbaglio Ok Dopodiché Mi abbassavo qua Non ho fatto rumore però È caduto nel letto E dai vaso Allora lo tiriamo qua Allora Lo tiriamo qua Mi mettevo qua Mi abbassavo Mi Mettevo qua Vicino al letto Veloce Veloce E poi facevo così E poi facevo così Ok Credo di esserci riuscito Ragazzi ho buggato Anche Mehdi Però C'è un problema Nel senso Se io esco Adesso che succede Mehdi l'ho buggata Però se io esco Che succede Non mi fa niente Ciao Mehdi Ma che sei bella A confronto di Granny Però sei un bijou Veramente Solo che io ti ho buggata Lo stesso Guardate lì come cammina Fighissimo Perché ovviamente Si tratta di Granny Però Nelle vecchie versioni Quindi tecnicamente Tutti i bug che c'erano lì Ce li riportiamo Anche qua Va bene ragazzi È inutile che completiamo il gioco Perché il finale È sempre quello Sempre quello Quindi provatelo Fatemi sapere nei commenti Se trovate altri bug E mi raccomando Lasciate quindi un bel like Mi ricordo che potete Scrivervi anche sulla pace Facebook Twitter Scrivervi a tutti i dati social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per già è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Boost Simulator Ultimate Allacciate le cinture Perché qua è un pericolo Perché sto guidando Da pochissimo Ho preso la patente ieri E oggi ho aperto l'azienda Quindi Fate voi Dobbiamo girare A destra